Generale Roberto Riccardi, generale di brigata, comandante del nucleo tutela del patrimonio culturale dei Carabinieri, benvenuto. I detective dell'arte sono questi, quelli del patrimonio culturale ed è il titolo del suo ultimo libro, appena editato da Rizzoli, detective dell'arte dai Monuments Man ai Carabinieri della cultura. Dopo una lunga esperienza nell'arma e dopo quanti libri gialli? Sono diversi, 5 e 6. Adesso un'immersione in un giallo molto reale e molto concreto. Cosa ha provato quando è stato comunicato l'incarico proprio del nucleo di cui lei ha raccontato Legesta? Una grande gioia perché è proprio il lavoro che incontra la passione. Io amo l'arma dei Carabinieri e il mio lavoro investigativo e poi amo l'arte. Le due cose erano insieme in un incarico e quindi una grande gioia, una grande emozione, un grande entusiasmo e anche la consapevolezza di raccogliere un'eredità importante, anche pesante se vogliamo, perché il compito dei Carabinieri della tutela del patrimonio culturale è qualcosa che va oltre la cronaca giudiziaria, ha più a che fare con l'eternità, con la nostra identità, con la storia, con la cultura, con ciò di cui siamo fidi. E poi siete eredi, leggendari Monuments Man, anche celebrati in un film noto, ci ricorda chi erano? I Monuments Man durante la Seconda Guerra Mondiale sono stati... Io ricordo un bellissimo George Clooney. Eh beh, conoscerà anche lui, sì, decisamente. Era anche regista, oltre che un attore. Erano 350 esperti d'arte, archeologi, archivisti, arruolati dagli alleati, per cui appartenevano a 12 paesi diversi e avevano il compito di tutelare l'arte e di recuperarla sotto le bombe. Quelle depredate dai nazisti? E anche perché era attivo il Kunschutz di Hermann Gheri, quindi truppe destinate alla protezione dell'arte che in realtà spogliavano dei capolavori i paesi sotto il gioco nazista. Ed è una storia deprimente e affascinante un tempo che lei racconta anche in questo libro che ha molto del romanzo, perché tutte le storie sarebbero un romanzo a sé. Questo libro prende l'avvio dall'anno di Grazia 1969, che è l'anno in cui viene istituito il comando tutela del patrimonio culturale e anche l'anno in cui viene rubata la famigerata natività di Caravaggio nell'oratorio di San Lorenzo di Palermo. Sì, è una ferita ancora aperta, una tela di quasi tre metri per due, che fu rubata in una notte insolitamente di pioggia di ottobre a Palermo e che è probabilmente passata per le mani di Cosa Nostra. Ci sono al riguardo diverse dichiarazioni di collaboratori, ma manca la cosa più importante. Sapere se ancora esiste. Esattamente, se ancora esiste ed eventualmente chi possa essere nel possesso. Potrebbero voler distruggere un'opera del genere per non essere intracciati? È possibile tutto, un investigatore non può scartare nessuna ipotesi e questa è una possibilità come è anche possibile una distruzione involontaria, perché è comunque un'opera di tre metri per due che va custodita in un certo modo se si vuole conservarla e poi invece noi speriamo che esista ancora da qualche parte. Vi è capitato anche di recuperare opere molto deteriorate, perché tenute nell'umidità, nell'acqua o strappate? Capita questo, capita che delle opere vengano fatte a pezzi per essere più facilmente smerciate o per essere più difficilmente riconoscibili. Capita che intervengano dei restauri per opere che non sono in buone condizioni, quindi le ritroviamo in uno stato diverso, a volte anche migliore, ma è quel migliore che rende ancora una volta difficile l'individuazione, perché cambiano un po' aspetto. Voi siete dei pionieri, quindi l'Italia, voi dunque l'Italia siete pionieri nel campo del recupero del patrimonio artistico, esiste solo in Italia una struttura specializzata e con professionalità così numerose, credo sia presa modello anche da altre nazioni. Sì, è divertente l'istituzione nel 69, perché l'anno dopo, sul nostro esempio, l'UNESCO con una dichiarazione invita tutti i Paesi membri, e quindi parliamo delle Nazioni Unite e del mondo intero, a dotarsi ove non già esistenti di strutture preposte alla tutela del patrimonio culturale. Quello ove non già esistenti siamo noi. Ad oggi ancora facciamo scuola nel mondo, abbiamo una struttura con nuclei in ogni parte del territorio nazionale, sono nei capoluoghi di regione, ci sono 15 nuclei e una sezione per la Sicilia orientale. Poi abbiamo un fiore all'occhiello investigativo che è il reparto operativo nazionale, a sede a Trastevere, in Vianicia, e ha delle sezioni specializzate per materia. La sezione archeologia, e noi archeologia a rischio ne abbiamo tantissima. La sezione antiquariato, quindi parliamo di arte antica, di antiquariato, di manoscritti, di fogli miniati. E poi la sezione falsificazione e arte contemporanea, che è una sezione molto attuale, molto di punta. Ci arriviamo. Immagino che voi abbiate, cioè so e immagino che il vostro database sia ricchissimo e continuamente aggiornato. So che esiste anche un'app per inserirvi le opere d'arte possedute, perché è fondamentale per il recupero, in caso di smarrimento o furto, avere una raffigurazione visiva. Bisogna fotografare, insomma, se uno ha la fortuna di avere un'opera d'arte deve fotografarla. Sì, sono servizi che offriamo al cittadino. La nostra banca dati contiene quasi 1.300.000 file di altrettante opere da ricercare. Per capirci, quella dell'Interpol per tutto il mondo ne ha 52.000 di file. Quindi è una banca dati enorme. Però quasi metà dei file non hanno una documentazione fotografica perché il proprietario non l'aveva prima di farsi rubare il quadro. In qualche caso si supplisce con l'abilità nel disegno. Lei racconta di un carabiniere così abile a disegnare che ha tracciato l'identi kid della celebre triade capitolina, rubata e poi recuperata fortunosamente. Proprio sulla base, l'ha disegnata sulla base di testimonianze verbali, come se si trattasse di un ricercato speciale. Esattamente, è stato anche quello un fatto curioso, divertente, perché quando i tombaroli portano via dal sottosuolo dei beni anche importanti, nessuno li vede. Ci sono soltanto loro in quelle tombe e quindi nessuno conosceva l'esistenza della triade capitolina. Il primo a parlarne è stato uno degli autori del trafugamento e lui ha descritto l'opera. Un nostro operatore bravo nel disegno ne ha tracciato questo identi kid che è stato fondamentale perché lo abbiamo diffuso negli ambienti del mercato dell'arte rendendo impossibile lo smercio. Con cui voi avete naturalmente rapporti continui e anche soffiate, immagino. Beh, è indispensabile avere dei sensori molto attenti sul territorio, in particolare nei mondi della vendita dell'arte che non sono così grandi, così aperti. Voi parlavate della vostra esperienza, si potrebbe utilizzare un gioco di parole per dire che fate anche expertise, cioè avete un laboratorio di analisi per capire anche, per datare le opere, per sapere le vicissitudini attraverso cui sono passate, quindi degli specialisti anche del restauro, insomma. In questo caso l'arte chiede l'aiuto della scienza, quindi i carabinieri della tutela patrimonio culturale si rivolgono ai colleghi del RIS che hanno delle sezioni invece specializzate anche per questo tipo di… Quindi ci sono i RIS dell'arte? Sì, sì, la sezione… Sono vestiti di bianco anche lì? Hanno il camice bianco come gli altri, sono dei chimici e sono in grado di analizzare le opere, pigmenti, vernici, tele, tavole e di datare i quadri. La prima cosa è questa, perché se si attribuisce a Modigliani un'opera realizzata negli anni 50 del Novecento, Modigliani è morto nel 1920, fra un anno c'è il centenario, certamente non può essere stato lui a realizzare quel quadro. E qui bisognerebbe rievocare la famosa storia delle copie dei falsi di Modigliani ritrovati dragando a Livorno, che fu veramente uno scombussolamento, ma questa è una storia che per chi non la conosce, anche se è stata molto raccontata, vale la pena scoprire poco a poco, perché questo sì è veramente un giallo. È un giallo, Modigliani è stato Modigliani alla francese, maledetto, da vivo e ahimè anche da morto. Voi avete un cavo che davvero farebbe la gioia dei ladri alla George Clooney in Ocean, un cavo con un sacco di capolavori di opere d'arte, sia statuari, sia dipinti, anche moltissimi dipinti contemporanei e molti falsi. Il mercato dei falsi funziona? Il mercato dei falsi è un mercato che funziona da sempre, hanno falsificato in ogni epoca. Ci sono stati artisti che erano falsari di se stessi, che magari retrodatavano le proprie opere a periodi dei quali la quotazione era più alta. C'è di tutto, è un mondo in cui veramente si trova di tutto. C'è l'artista mancato, c'è quello che è molto bravo a imitare ma non è capace di inventare e allora il suo mestiere diventa quello di fare riproduzioni. E poi c'è oggi un lavoro possibile anche al computer, con l'arte contemporanea, con le installazioni, con delle opere che sono molto materiche, che hanno inserti di vario tipo. Diciamo, la frontiera del falso si sta spostando verso le tecnologie più avanzate. Ci sono dei falsi che valgono di per sé, pur sapendo che sono falsi e che fanno parte di un mercato di falsi d'autore? Esiste un mercato dei falsi d'autore, esistono delle opere che vengono dichiarate come tali e che come tali possono essere legittimamente vendute. Ci sono anche siti internet che fanno questo, l'importante è che sia chiaro che si tratta di una riproduzione, di una copia, di un'imitazione. Tra l'altro noi dubbiamo dei grandi falsari, la possibilità di vedere le opere dei grandi maestri dell'arte greca, perché se i falsi romani non avessero copiato noi non avremmo la possibilità. Il discobolo Lancellotti al Museo Nazionale Romano, al massimo, meravigliosa scultura, e quella di Mirone non sapremmo come fosse se non avessimo questa copia. Peraltro recuperata, era stata portata via da Goering e l'ha riportata in Italia, in questo caso Rodolfo Siviero, che è stato un antesignano. Un grande detective, un personaggio davvero da immaginare con il bavero alzato e il cappello con la falda tesa a lavorare nell'ombra. E' curioso perché depredare le opere dei paesi occupati è una cosa che da Napoleone in poi non si può più fare, non era più in uso fare. Sì, diciamo che è del Novecento la concezione tradotta in convenzioni internazionali, in diritto internazionale, però Napoleone è uno degli ultimi esempi nella storia. Di quello che poi è lo ius prede, il diritto al saccheggio, sempre esistito, per cui dopo una guerra il paese vincitore poteva spogliare quello sconfitto anche dei suoi tesori artistici. E succede ancora, perché vogliamo ricordare quello che sta capitando ancora adesso in Siria e in Iraq. Purtroppo succede ancora. Vi chiamano anche per consulenze in quei territori, oggi teatro di guerra, dove l'abbiamo visto, l'abbiamo ascoltato, anche se sommariamente capolavori meravigliosi sono stati o distrutti o comunque entrati nel mercato clandestino. In questo momento abbiamo il nostro responsabile della banca dati che è a Baghdad, in Iraq, e sta aiutando gli iracheni a formare un database come il nostro. Poi ci sono a Baghdad e a Erbil altri due nostri operatori che stanno formando le forze locali irachene e kurde per la tutela, quindi fanno assistenza, fanno training, fanno catalogazione. È vero che la criminalità organizzata è sempre più acculturata, potremmo dire, quindi sempre più attenta anche al riciclaggio delle opere d'arte. Come mai questa trasformazione, non solo droga e prostituzione, ma insomma anche questa raffinata attenzione ai capolavori dell'arte? L'arte può avere un valore finanziario notevolissimo, quindi questo diventa motivo di attrazione anche per la criminalità organizzata che può reinvestire, può moltiplicare i propri guadagni o anche semplicemente lavare il denaro, il riciclato. Se si può dire, quali sono i mercati più attrattivi per la criminalità? Sono privati, sono personaggi sconosciuti di paesi lontanissimi, quindi difficili da rintracciare, sono collezionisti, che poi in realtà possono far vedere le opere rubate e custodite nel loro dimore solo a pochi intimi, perché ovviamente altrimenti sarebbero scoperti. Sì, parliamo essenzialmente di collezionisti, facoltosi, quindi i mercati più ricchi sono i paesi che hanno un benessere più diffuso. Per le opere rubate che magari sono state prese da musei, chiaramente è impossibile mostrarle, cioè mostrare un'attività di Caravaggio o un Klimt o un Bellini che risulta da ricercare è una follia per chi lo detenga. Non credo che i musei ci tengano oggi ad avere nascosto. No, no, quello no. Volevo dire un'altra cosa, che più facilmente invece il collezionista o in questo caso anche qualche galleria, i musei non più tanto, possono mostrare tesori sottratti dal sottosuolo, perché non se ne conosce l'esistenza. Se ancora oggi un tombarolo porta via da una tomba qualcosa, l'oggetto non è conosciuto dal mondo e quindi quello ancora ha un potenziale mercato. Su questo però il contrasto è sempre più forte perché si sta imponendo un po' al mondo attraverso l'UNESCO, attraverso la normativa internazionale, che la provenienza di questi beni sia tracciata e sia verificata con molta più attenzione. E quindi in passato non così lontano avete dovuto trattare anche con musei importanti per avere la restituzione di opere d'arte italiane. Certo, ci sono casi ancora aperti, che era più frequente nel passato che gli acquisti avvenissero con una certa tranquillità, ma comunque ancora c'è qualcosa da recuperare. Senta, generale, i leggendari tombaroli sono ancora queste figure romantiche, solitarie, che nel bugno della notte con le torce andavano a scavare per recuperare reperti dell'antichità oppure sono molto più collegati alla criminalità organizzata e quindi un figlio un po' meno romantico? Scompaiono i mestieri leciti, antichi e anche quelli illeciti oppure evolvono. E questo sta accadendo anche ai tombaroli che oggi hanno ruspe, detector, rilevatori, sensori. Insomma, lo spillone sta andando in pensione. Lo spillone è proprio... Per assaggiare il terreno? È quello che utilizzavano, che ancora qualcuno utilizza, per sondare il terreno in cerca del dromos, della porta di accesso alle tombe. Le tombe, e i tombaroli lo sanno bene, sono sempre piene di oggetti perché nelle civiltà antiche il culto dei morti era significativo. Quindi si sa, e loro sanno bene, magari sono persone che non hanno grandi studi alle spalle, ma che si sono documentati sui trattati di archeologia, sanno che la tomba è proprio l'obiettivo più importante. Deve essere comunque curioso e affascinante incontrarne uno. Chissà quanti racconti... Anche avvincenti. Anche loro aneddoti. Fra l'altro è un mestiere con delle percentuali di rischio perché lavorare di notte sottoterra espone naturalmente a mille insidie che crolli, pioggia. Noi pensiamo al vostro lavoro riferito soprattutto ai grandi capolavori, ma in realtà tra le cose maggiormente attrattive sono i piccoli capolavori. Libri antichi forse non lo si immagina, che ci siano tanti bibliofili. Monete. C'è un mercato per i libri antichi, c'è un mercato per le monete, c'è un mercato per oggetti di culto che vengono presi con relativa facilità. L'Italia è piena di chiese in ogni frazione, in ogni contrada, in ogni piccolo paesino e non tutte naturalmente sono difese come si dovrebbe. Né catalogate, né allarmate. Catalogate, allarmate, con documentazione fotografica che consenta poi di procedere a un'indagine, di cercare quell'oggetto. E a volte sono più importanti per la gente del posto questi oggetti che non le grandi opere d'arte, perché rappresentano un legame col territorio, le radici, l'affetto. C'è un valore affettivo che va oltre quello economico, anche quello artistico e storico. Una persona che abbia pregato tutta la vita davanti a un crocifisso nella sua parrocchia, che magari abbia chiesto le grazie più importanti per la propria famiglia, ecco, quando manca quel crocifisso sente proprio una ferita sulla pelle. E fra i momenti più belli per gli investigatori dell'arte ci sono le restituzioni a queste comunità, anche piccole, quando la gente davvero si commuove, vedendo tornare il crocifisso di legno di nessun pregio artistico e storico, ma che è quell'oggetto davanti al quale è stata tutta la vita in ginocchio e in preghiera. Un'esperienza di cui abbiamo avuto anche noi testimonianza diretta attraverso i mezzi di comunicazione è di fatto la prima missione dei Caschi Blu della Cultura ad Amatrice in occasione del terremoto del Centro Italia del 2016 e vi abbiamo visti scavare e impacchettare opere d'arte magari non tutte così pregiate, ma che sicuramente avevano un grande valore affettivo e immagino voi vi siete trovati protagonisti della tragedia della gente, oltre che della necessità di salvare non soltanto vite, ma anche opere d'arte. Le due cose, come spesso accade, si sono fuse. L'aiuto alla popolazione rispetto ai suoi bisogni primari, gente che aveva fame, gente che non aveva casa, gente che piangeva, un caro ancora non ritrovato. Quindi avete dato una mano anche alla protezione civile. Sono intervenuti anche nell'immediatezza i colleghi. E poi invece l'aspetto specialistico, tecnico, professionale che per la tutela del patrimonio culturale è cercare proprio i beni artistici. E ne sono stati recuperati 30.000. E dove sono contenuti? È un bel numero. Adesso c'è un deposito in sicurezza, quello del Santo Chiodo, nei pressi di Spoleto in Umbria. Poi ce ne sono altri, però alcuni beni, dove era possibile farlo, sono stati proprio restituiti. Con grandi cerimonie, immagino. Con grandi e piccole cerimonie, ma con cerimonie sempre sentite, sempre molto amate. Qual è l'opera d'arte? Adesso, insomma, lei è appena entrato, non da giallista, ma da generale, di questo nucleo così importante. Qual è l'opera che proprio vorrebbe trovarsi davanti? Un giorno e dire, ecco, l'abbiamo ripresa. Ce ne sono talmente tante, non lo dico per scaramanzia. Qualche nome in mente mi viene subito. Ce ne sono, ce ne sono, però non si possono mai promettere risultati investigativi, perché l'indagine per sua natura ha un risultato incerto. Noi seminiamo, siamo come i contadini, dobbiamo seminare costantemente, sapendo che il raccolto potrà anche non venire. E questo non dipende solo dalla nostra volontà, dalla nostra capacità e dal nostro impegno, perché è un risultato senza promesse. L'ultimo grande importante è noto? Beh, è stato bello di recente rivedere a Palazzo Pitti il vaso di fiori di Vanuysum. Quella era veramente una ferita che non si poteva accettare, perché era stato addirittura rubato al Kunschutz di Goering da un caporale che aveva visto spuntare questo vaso di fiori da un convoglio diretto in Germania al Brennero e aveva pensato di fare un regalo alla moglie. Quindi un trafugamento nel trafugamento e una volta individuato il dipinto, bisognava proprio che tornasse, perché non c'era nessun presupposto giuridico, logico, per cui il vaso di fiori fosse ancora lontano dalla sua sede naturale, doveva tornare a casa. Palazzo Pitti. Lei è riuscito a mettersi nella mente di un collezionista. Io mi sono sempre domandata perché volere per sé, in maniera quasi rapace, cose che sono per il bene comune, per la visione comune, per una bellezza da comunicare. Io sono per i musei, non per le raccolte private. Ci risponde a entrambi Oscar Wilde, ci sono due modi di non amare l'arte, non amarla o amarla razionalmente. Il collezionista appassionato a questi livelli è sofferente di una patologia precisa, pensa che soltanto i propri occhi siano in grado di dare valore a quell'opera. Quell'opera esiste in quanto esistono i suoi occhi, la vuole per sé disperatamente a qualunque costo. Questo spiega il sottrarlo dal bene comune che è il bene di nessuno dal punto di vista di queste persone affette da Stendhal all'ennesima potenza. Noi invece gioiamo anche nel vedere una cosa bella se possiamo comunicarla, no? Non c'è dubbio. Il modo sano di amare l'arte, secondo me, è quello. Voi avete un rapporto anche con i giovani attraverso testimonianze nelle scuole. Che cosa vi domandano? Che riscontri avete? Sono interessati? Perché ormai il livello, noi immaginiamo magari superficialmente che è il livello di attenzione. La storia dell'arte si fa un'ora ogni tanto, se va bene. Quindi che la preparazione e l'attenzione siano scarsine per una cosa del genere. Invece? I ragazzi riservano sempre sorprese, sono sempre migliori di come li dipingiamo. Indubbiamente non è facile catturare la loro attenzione e mantenerla. Quindi bisogna prenderli un po' sul loro terreno. Il loro terreno è molto visuale, è molto tecnologico. Però presi nel loro verso si appassionano, si incuriosiscono, cominciano a parlare di cos'hanno vicino. Perché chi viene da un paese o da una grande città scopre di avere un rapporto con l'arte, scopre che effettivamente il discorso che gli stiamo facendo riguarda anche lui o lei. Trovate sintonia, attenzione, oppure qualche volta anche pregiudizi e sospetti nei confronti della divisa che indossate? Noi sappiamo da sempre, si chiamava la benemerita, che l'arma ha sempre avuto un rapporto particolare con la gente, che si sente protetta, si sente accudita. Tante volte negli anni, nel corso anche degli ultimi anni, si è visto un atteggiamento invece di ripulsa nei confronti della vostra divisa. Voi la soffrite? Pensate che questo lavoro di tutela del patrimonio artistico possa anche in qualche modo accostare maggiormente alla sensibilità e all'attenzione che avete per le persone? Diciamo che questa specialità in particolare riscuote un successo molto ampio, molto diffuso. È un lavoro che mette d'accordo un po' tutti. Riguardo all'uniforme, l'uniforme può essere un modo per comunicare, è una barriera, dipende dagli occhi di chi guarda, dipende anche dal modo che noi abbiamo di porci. Però l'uniforme è qualcosa che è dentro di noi e se la portiamo come dobbiamo, come motivo di responsabilità, di sentirsi in una missione dedicata agli altri, ci avvicina, non ci allontano. Lei sognava di avere questo uniforme da ragazzino? Sì. O è stato un passaggio lento, una vocazione maturata col tempo? No, è stato proprio un lampo, il colpo di fulmine. Come mai? Il romanzo si chiama Il giorno della civetta. C'è un capitano, Bellodi, che va in Sicilia e combatte la mafia, si trova di fronte a un nemico più forte di lui. Don Mariano, che è il doppio dei suoi anni e del suo pelo sullo stomaco, con una telefonata lo fa trasferire quando sta per avvicinarsi alla verità e alla giustizia. Questa cosa era inaccettabile, la mia risposta è stata a ruolarlo. E così ha cominciato? Sì. E quando lei scrive libri gialli, quanto trasfigura realtà o quanto inventa? I gialli per me hanno il problema opposto che incontrano di solito gli scrittori. Me lo disse una volta un editor, uno dei primi con cui ho lavorato, molto bravo. Gli autori di gialli hanno spesso il problema di entrare nel mondo delle indagini. Tu avrai il problema di uscire. Perché non devi raccontare in modo troppo realistico, altrimenti sarà un articolo di stampa, non un romanzo. E avendoli fatto capo un giustampa dell'arma, era una tentazione doppia. Il mio esercizio è quasi quello opposto dello standard. Cercare di romanzare un po', ma comunque conoscendo nella vita l'ambiente delle indagini, è inevitabile che ci sia un realismo molto forte e il lettore di solito lo coglie. Una volta chiesero a George Bernard Shaw quale opera avrebbe voluto salvare del Louvre in caso di un incendio e lui rispose quella più vicina all'uscita. Lei cosa risponderebbe? Quella più lontana, perché così vorrebbe dire che anche tutte le altre sono state salvate. Eh vabbè, ma lì bisogna essere eroi però. Per l'arte si può morire, ce l'ha insegnato un archeologo ottantenne a Palmira nel 2015, si è fatto uccidere piuttosto che consegnare le opere d'arte. L'ho letta questa storia. Chi sente questo lavoro la pensa così, non può pensarla in un altro modo. E qui bisognerebbe aprire un'altra chiacchierata sulla figura dell'eroe che per secoli, direi, ha attivato la sensibilità, la fantasia, la passione di generazioni e generazioni e oggi invece sembra una figura da accantonare e forse troppa retorica, la sporcata. Tuttavia appunto di eroi ne siamo testimoni, penso a tante guerre che si combattono ancora oggi, ci penso ai kurdi o ad altre realtà, di giovani che danno la vita per un loro ideale. Beato il popolo che non ne ha bisogno, qualcuno ha scritto. Io credo molto nell'eroismo silenzioso, quotidiano, di svegliarsi la mattina, magari prendere un buon caffè, andare a lavorare, fare quello che si deve, qualunque costo comporti. E questo non c'è bisogno di essere eroi per farlo, c'è bisogno di essere impegnati, di credere in quello che si fa. Io penso all'eroismo quotidiano di tante persone che riconosciamo come eroi soltanto quando la storia finisce male e sappiamo anche quanto abbiate pagato per questo. Ci vuole un bel coraggio, ci vuole volontà e coraggio, anche perché non sempre si è ripagati, no? Se non dalla soddisfazione di essere stati seri con la propria vita. È un credo, se ce l'hai non ti chiedi neanche più se sia difficile, sia facile, ce l'hai e basta. Qual è l'inno della sua professione, l'inno che vorrebbe per sé come carabiniere e come persona? L'inno per un carabiniere è la fedelissima, è la marcia d'ordinanza di Luigi Cirenei, poi c'è l'inno nazionale. Se andiamo su questi temi… Su un gusto personale, su un gusto personale invece con cui chiudere? Gusto personale? Beh, vogliamo altro, abbiamo parlato di cose belle dall'inizio, l'intermezzo della cavaleria rusticana, penso che sia una delle opere musicali più belle mai scritte. A proposito di eroismo? No, non riguarda l'eroismo, però l'eroismo… Allora andiamo su Wagner, però c'è una battuta molto bella di Woody Allen, ogni volta che sento la cavalcata delle valchirie mi viene voglia di invadere la Polonia. No, lasciamo stare. Rimango con Mascagni. Andiamo con la cavaleria rusticana. Anche perché amo Livorno. Grazie, grazie tantissimo, generale, grazie.